Sarà un primo maggio suonato proprio dai Terroni Uniti, ci sono un sacco di amici, di fratelli che verranno ospiti e siamo partiti da una cosa abbastanza umile e invece penso che siamo arrivati a un risultato veramente alto insomma. Non sarà soltanto il lavoro il tema principale del concerto del primo maggio a Napoli. In Piazza Dante, dalle 14 a mezzanotte, centinaia di artisti si esibiranno gratuitamente in una maratona di musica a colore ed impegno sociale che fa da seguito al recente avvenimento di Pontida, facendosi dunque portavoce di temi attuali che sono sentiti in maniera particolare in una città multietnica. La musica ha un grande potere, ha il potere veramente di rompere i muri, di rompere le barriere e noi siamo ben felici di avere questa possibilità e di farla e siamo ben felici di avere un sindaco come De Magistris che ci aiuta in queste idee, in queste iniziative. È un'ulteriore tappa, questo progetto Terroni Uniti di questi artisti sempre di più che si aggiungono in centinaia ci piace, ci piace talmente tanto che lo consideriamo un progetto della città, per la città e per i sud del mondo e l'abbiamo messo nel documento di programmazione dell'attività amministrativa e politica della nostra città. Quindi ogni primo maggio avremo questo concerto dedicato ai sud, ai diritti, contro il razzismo, contro le discriminazioni, per la solidarietà e per l'accoglienza. Sono talmente tante le richieste che abbiamo dovuto anticipare alle 14 l'inizio del concerto che andrà avanti fino a dopo mezzanotte, quindi siamo davvero contenti. un ringraziamento alle tante donne, ai tanti uomini del mondo della cultura e della musica che stanno dando la loro adesione.